Nel dicembre del 2014, in prossimità del Natale, una leggera nevicata imbiancò oliveto lucano. Il manto bianco rende l'atmosfera del paese suggestiva, esaltando l'atmosfera natalizia. La neve illumina l'intero paesaggio e trasforma uno scenario buio in uno completamente bianco e luminoso, che ti invita a uscire e goderti quel magico paesaggio. Osservare la neve che scende, può regalare pace e serenità. La neve crea infatti scenari da favola, paesaggi incantati, dove si respira un'atmosfera magica ed ovattata. Nonostante il freddo gelido a cui si accompagna, la neve è in grado di scaldare gli animi e regalare momenti di grande emozione. La neve, con la sua eleganza e la sua magia, Incanta il cuore di tutti. Quando scende silenziosa, crea un paesaggio fiabesco. La sua bellezza, la sua purezza e la sua capacità di trasformare tutto ciò dove si posa, ci portano a riflettere sulla forza della natura e sulla sua capacità di donarci momenti di pace e serenità. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. La neve che cade porta con sé un'energia misteriosa. Ci invita a rallentare il ritmo frenetico della vita donandoci una piacevole sensazione di serenità e meraviglia. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.